Ciao, Giuliano Rossi, vengo da Roma e sono titolare di un ambulatorio tontoiatrico. Mi trovo qui in questo corso perché per la voglia di cambiare diverse cose di studio, dalla gestione dei pazienti alla gestione dello studio a 360 gradi. Il corso è interessante, è pieno di informazioni, tanti spunti e lo consiglio per chi ha voglia di mettersi alla prova.